Il primo argomento tecnico che affronteremo questa mattina sarà il palleggio. Il palleggio è il fondamentale che ci serve per spostarci sul campo con la palla. La palla deve diventare parte di noi, dobbiamo imparare a dare del tuo al pallone e quindi lo possiamo fare anche se avete la motivazione la mattina nella vostra camera se non avete degli inquilini sotto che protestano oppure nel cortile perché davvero bisogna imparare a gestire la palla in maniera molto molto efficace. Farete degli esercizi che si chiamano di trattamento di palla o di ball handling all'inizio dell'allenamento che vi daranno idea di cosa stiamo parlando. Cos'è importante per essere dei bravi palleggiatori? Intanto è importante saper usare in maniera equilibrata tutte e due le mani quindi l'ambidestrismo e vedrete che negli esercizi che vi proporranno gli allenatori saranno orientati soprattutto a usare la mano debole. E poi è molto importante riuscire a palleggiare nel tempo, non subito, senza guardare la palla. A me piace dire che il giocatore di palacanestro ha quattro occhi, due nella testa che servono per vedere il gioco e leggere quello che succede nel campo e due nelle mani che servono per guardare la palla. Quindi gli occhi della testa devono servire per guardare il gioco e non per guardare la palla. Il palleggio deve essere un palleggio deciso. Io dico bisogna fare i buchi per terra quando si palleggia cioè bisogna imprimere una certa forza alla palla quando batte il suolo anche perché così vi ritorna subito nella mano e quindi vuol dire che avete un buon controllo della palla. Anche quindi molto ritmato nel tempo. E poi l'ultima cosa di cui vi voglio parlare e che cercherete di allenare in questi esercizi è la posizione della mano sulla palla. È evidente che la posizione della mano sulla palla non può essere la stessa quando correte in contropiedi quindi dovete coprire degli spazi in avanzamento quando invece siete sul posto a proteggere la palla pressati dal difensore quando dovete fare dei cambi di mano quindi dovete mettere la palla lateralmente per poterla spingere da un lato all'altro del vostro corpo. Anche questa è un'abilità che si migliora sia con gli esercizi di trattamento di palla che farete all'inizio e sia poi con gli esercizi di palleggio per corsi vari che vi verranno suggeriti dagli allenatori. Buon lavoro e divertitevi! Buon lavoro e divertitevi!